Allora ragazzi sto facendo questa intro nell'intro per avvisarvi che domani quando inizierà la sfida del Gran Cavaliere io andrò in live Quindi ragazzi mi raccomando domani mattina ci dovete essere per forza Comunque vi darò maggiori dettagli sul mio account Instagram, questo qui è il mio Instagram Lì tramite una storia o tramite una foto insomma vi avviserò, comunque vi aggiornerò su come e quando partirà la live Comunque sarà domani in mattinata Detto questo vi invito a guardare questo chest opening fino alla fine ragazzi Perché veramente ci sono dei chest opening all'ultimo incredibili Quindi ragazzi mi raccomando rimanete fino all'ultimo incollati al video perché veramente merita E niente io vi lascio al video Ok ragazzi siamo ora qui con il mio account Non aprirò questi bei bauli che ho negli slot perché li sto tenendo per un altro video speciale Infatti andremo direttamente ad aprire i due bauli magici gratis Veramente io ripeto la supercell non so che cosa si sia bevuta Però ci ha regalato questi due bauli magici gratis Che andremo ad aprire ovviamente adesso insieme di Arena 11 Quindi molto molto bene Con 1200 di oro, due arieti da battaglia, 28 scariche che ci stanno 31 barbari, ok 35 sgherri, teoricamente le comuni sono finite Ci ha dato una sola epica Mannaggia quanto ci ha preso in giro questo baule magico non si sa 23 cure e l'altra epica sono 3 furie Tra l'altro ci ha dato due epiche che io assolutamente non ho mai utilizzato E in generale il baule proprio è stato un po' schifosetto Intanto il pugno grandissimo della challenge va bene E andiamo comunque con l'altro baule magico che ho sul mio account Sempre di Arena 11 Con una capanna dei barbari Un domatore Io adesso vorrei far vedere questa clip a quelli della supercell Come fanno, come creano gli slot di questi bauli Due dei tre moschettieri Ma che cos'è? Tutti i slot di carte rare inutili Inutili perché se si trovano così poche carte Sono inutili questi slot Cioè ovviamente mi ha dato 5 slot di carte rare 5 slot di carte rare per poi darmi 94 sgherri e 4 tornato Vabbè Ma alla fine mi ha dato anche il domatore Che per carità mamma mia meno male magari a trovarlo in tutti i bauli Ma uno solo non ci faccio niente E ovviamente adesso l'altro pugno Vabbè comunque ragazzi noi adesso passiamo col prossimo account Ok ragazzi ora invece siamo con l'account di Fogost Che tra l'altro ha anche un baule leggendario da shoppare Che ovviamente andremo a shoppare insieme Però direi comunque di partire prima da questi due bauli magici gratis Sperando che lui abbia più fortuna di me Con 1200 di oro Due goblin Un golem del ghiaccio Cioè vabbè ragazzi ci sta veramente prendendo in giro il gioco 5 stregoni ok va bene 5 sfere infocate E poi ci sta dando anche carte interessanti Perché lo stregone e la sfere infocata Fogost le utilizza Ma se ce ne dai così in poche Sono inutili ok Va bene Vabbè anche 4 barili dai Abbastanza buono Diciamo che è stato un baule che per Fogost va più che bene Perché abbiamo trovato 4 carte che lui utilizza Il problema è che ce ne andate pochissime per ogni carta A parte la gang e il barile Pugno ovviamente anche qui E adesso andiamo col secondo baule magico dell'account di Fogost Con 9 frecce Vabbè i soliti 1200 di oro 16 spiritelli del fuoco 18 mortai 51 scariche Molto molto buone Forse qui sento puzza di leggendaria E no perché ci ha ritrollato come prima Ci ha trollato lo stesso modo di prima Con un barile goblin Vabbè almeno Fogost le utilizza 25 lapidi Mannaggia la miseria E 3 bocciatori Ci ha trollato nella stessa maniera Che ci ha trollato nel mio account Ovvero un baule ci ha fatto credere per la leggendaria E l'altro baule invece ha fatto proprio schifo Dandoci poche carte per ogni singolo slot Quindi veramente molto molto male Speriamo che almeno il bole leggendario Ci dia qualche soddisfazione ragazzi Almeno una leggendaria la troviamo in questo video E dai vai rotazione Rotazione Attenzione fuori legge Fuori legge che ci può stare Anche se Fogost non la utilizza Comunque la può quasi portare A livello 3 Sarebbe stato ottimo Trovare il minatore Che addirittura Poteva portarlo Già al 3 E ricordo che Fogost Ancora di trovare il cannone a rotelle Infatti strano Mi aspettavo Almeno un cannone a rotelle Sbloccarlo invece no Noi comunque passiamo col prossimo account di oggi Ok ragazzi ora sono qui Sull'account di Tommy Che ovviamente saluto e ringrazio Grazie mille Tommy Perché guardate quanti bei bauli Ci lascia aprire E soprattutto ci lascia aprire Anche i due bauli magici gratis Direi di lasciarli per ultimi Apriremo anche prima il super magico Addirittura Perché diciamo sono i bauli principali Di questo video Ovvero andremo a aprire Tanti bauli magici gratis Quindi io direi di iniziare con i bauli omaggio Che per adesso non ci stanno dando neanche una gioia Addio questa forza ci sta l'epica Attenzione l'epica Il cannone a rotelle Che vabbè c'è ancora l'uno Ma anch'io ce l'ho ancora l'uno Perché ancora va capito un po' Come truppa Quindi vedremo Vedremo Unque goblin cerbottaniere e mortaio Vabbè Andiamo anche col baule del clan Perché se no dopo me lo scordo Sono sicuro Vi dico una chicca del canale Che lo sapete Io faccio tanti chest opening Sugli account appunto vostri Molte volte mi scordo O il baule del clan O il baule delle sfide Di gente che mi dice Che ci sono anche i bauli delle sfide E il baule del clan Però poi vabbè Per un baule non è che cambia tanto Comunque andiamo avanti adesso Con il baule gigante Sempre con l'account di Tommy Che ci dà subito l'epica Ma purtroppo non erano finite le rare Quindi niente di che Tra l'altro goblin E anche la capanna dei goblin Però l'orda di scheletri Non è male Andiamo anche con il baule della corona Attenzione Due gemme Sette bombaroli 8 goblin cerbottaniere 66 goblin Adesso ci dovrebbe essere l'epica Infatti l'ha tornato Molto buona Andiamo ad aprire addirittura Anche il super magico Prima anche del baule magico normale Perché questo è il video Per quegli infami Dei bauli magici Che mi prendono sempre in giro Comunque sempre i goblin Stiamo trovando Sono finite le comuni Le epiche no Ovviamente Sono finite le rare Sono finite le epiche E c'è la leggendaria Per Tommy Non gli ho chiesto Quale leggendaria Preferirebbe trovare Però comunque Gliel'abbiamo trovata Nel baule super magico Che non è mai male Spero sempre Uno stregone elettrico Insomma La strega notturna E quella roba lì Però comunque Anche altre Non sarebbero male Attenzione Rotazione E ci capita La fuorilegge Che vabbè Non è male Tra l'altro La può quasi portare A livello 3 Che non è assolutamente male Un baule super magico Rivedibile Però almeno abbiamo trovato La leggendaria Comunque adesso ci divertiamo Con questi Tre bauli magici Direi di partire Prima con questo qui Che ha sbloccato In battaglia Che è comunque gratis Teoricamente no Perché comunque I bauli presi In battaglia Sono considerati gratis Credo no Comunque Non abbiamo trovato qui La leggendaria Però la epiche Di un allord Di scheletri Che se continuiamo così Gliela portiamo al 5 Che non è male Ora andiamo con questi Due bauli magici Partiamo prima a destra Così Tanto per 1200 di oro 5 spiriti del ghiaccio 22 barbari 28 goblin lanceri 4 valchirie Bruttino anche questo Sono finite le comuni Sono finite solo adesso Le rare Buone 21 sfere infocate E l'epica è la mongolfiera Che può quasi portare al 5 Io devo dire Che le epiche Che stiamo trovando Sono tutte Molto molto buone Quindi almeno Quello per Tommy Ci sta Comunque Andiamo con l'ultimo Baule magico Nel baule E si scusatemi Andiamo proprio con l'ultimo Baule in generale Con l'account di Tommy Con il razzo 5 torri bombardiere 36 orta di sgherri 8 torri infernali 58 frecce 10 capanne di goblin L'epica E la furia Che comunque ha potenziato Di livello 5 Ha potenziali Di livello 5 Quindi evidentemente Tommy la utilizza E per questo Anche la furia Una buona epica Per Tommy Purtroppo Abbiamo trovato Solo la leggendaria Nel baule Super magico Nei bauli magici Ancora dobbiamo trovare Una dannatissima Leggendaria E speriamo di trovarne Una prima o poi Insomma Comunque ringrazio Ancora una volta Tommy E noi adesso passiamo Al prossimo account di oggi Ok ragazzi Per concludere Questo episodio Siamo qui adesso Con l'account di Giada Che ovviamente Saluto e ringrazio Grazie mille Giada Perché guardate Che bel cesto opening Che ci lascia aprire Molto simile A quello che ci ha lasciato Aprire Tommy Però in più C'è anche un baule Leggendario Quindi veramente Grandissima Giada Ma veramente Siete un po' tutti grandi Quando mi fate aprire Vostri account Con i vostri bauli Perché a volte Mi lasciate cesto opening Allucinanti Ma tutti anzi Mi lasciate cesto opening Allucinanti Quindi io vorrei ringraziare Tutti coloro Che fino adesso Mi hanno lasciato Il proprio account E ovviamente Appunto li vorrei Risalutare tutti E ringraziare tutti Però appunto Adesso siamo con l'account di Giada Che oltre a questo Tra l'altro Ci lascia ovviamente Anche questi due bauli magici Che fino adesso Ci hanno fatto solo di sperare Quindi io spero Che con l'account di Giada Ci riprendiamo un attimo Comunque partiamo Non perdiamoci in chiacchiere Ancora E continuiamo a trovare Un sacco di goblin Con l'account di Tommy Abbiamo trovato Un sacco di goblin Un sacco di capanne Dei goblin Ma goblin in generale Perché adesso abbiamo trovato Anche la gang E adesso per fortuna Un baule che non ci ha dato Nessuna tipologia di goblin Comunque andiamo avanti Con gemme Mortaio Sette fornaci Sessanta giganti royale E la epica È lo specchio Che vabbè Ci può stare Ora io direi Di iniziare Con il baule gigante Con 71 barbari scelti 13 capanne Dei goblin Comunque 125 pipistrelli E 36 lapidi Ora direi Di andare Questa volta Vabbè Con il baule magico Abbiamo visto che è tanto inutile Tenerli fino alla fine Con 6 scheletri Comunque 23 arcieri 25 mortai 27 gang di goblin Quindi ancora goblin Non sono finite le rare Purtroppo infatti Ecco qui anche il goblin Cerbottaniere Un con altro goblin E 3 veleno Ok va bene Ora direi di andare Prima con il baule leggendario Vedendo prima Che leggendarie ha Utilizza la scintilla Incredibilmente Con princess E tronchettino E vediamo che però Gli ne mancano parecchie Quindi io spero Di trovargline una nuova Anche quelle che magari Poi non utilizza Però magari un giorno Potrà anche iniziare a utilizzarle E ovviamente io spero Olminatore Stregone elettrico Strega notturna Anche la cimitero Sarebbero ottime Però diciamo che Tutte quelle che ancora Deve sbloccare Sarebbero buone tutte Comunque rotazione Attenzione Vabbè Drago infernale È probabilmente Una delle peggiori Di quelle nuove Che poteva trovare Però almeno È una nuova leggendaria Che poi comunque Ultimamente Sta tornando anche Parecchio forte Nel senso Molta gente La sta utilizzando Il problema di questa carta È che è molto molto Difficile da utilizzare Però comunque Se la sai utilizzare È veramente fondamentale Cioè molto forte Comunque andiamo Con il baule super magico Prima ci ha portato fortuna Perché abbiamo trovato Una leggendaria Ancora Goblin Incredibile 144 bombaroli 286 tesla Abbiamo finito Anche adesso Le comuni Non le rare Adesso sì Le rare Attenzione Rifiniamo L'epica È nuovamente leggendaria Sono contento Sono contento Vabbè che abbiamo trovato Le guardie Finesse Abbiamo trovato Delle carte Bruttissime In questo baule super magico Tra l'altro Sono carte molto simili A quelle che abbiamo trovato Nel baule super magico Di Tommy Ma vabbè Non ci perdiamo in chiacchiere Dai che adesso È la volta buona Per lo stregone elettrico O comunque una di quelle carte Che ho citato prima Vai così Minatore Minatore Molto bene così Il minatore è veramente Un'ottima leggendaria Giada Io te la consiglio Vivamente Perché è veramente Un'ottima leggendaria Eccola qui Quindi abbiamo trovato Due nuove leggendaria Giada Quindi spero Sia contenta Io ovviamente La ringrazio ancora una volta Grazie mille Giada Ringrazio ancora una volta Anche Tommy Allora ragazzi Si stavo per chiudere Il video Ma mi stavo dimenticando Dei bauli gratis Bauli magici gratis Sull'account di Giada Tra l'altro Va bene Comunque Stavamo dicendo Non ci hanno dato ancora Nessuna Diciamo Nessuna soddisfazione Questi bauli magici Quindi adesso Speriamo che con l'account Di Giada Tra l'altro Altri goblin Cambi un po' la storia Ok non so Finite le rare Però 11 domatori 11 domatori Non male Quindi lo può quasi portare Al 7 E 4 furie Che vabbè Non sono niente di che Però in generale Non è stato un brutto bauli Perché anche la gang di goblin Non è male Comunque Andiamo anche con l'altro Baule magico Gratis Sperando di trovare qualcosa Di interessante Con una fornace Due dei tre moschettieri Ci sta trollando anche questo Baule magico Un 4 torri inferno 6 mega sgheri Ma non ci può dare 5 slot Ogni volta di carte rare Che poi ripeto È inutile Perché sono tutte Poche carte Vabbè 3 golem Alzo le mani Lo può portare al 3 Molto buono Giada Io te lo consiglio E niente Io appunto ringrazio ancora Un'altra Sia Giada Che ovviamente Tommy Perché mi hanno prestato L'accanto Quindi grazie mille ragazzi Spero che anche questo Cesto opening vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel mi piace Fatemi sapere voi Cosa avete trovato In questi bauli magici Gratis Che a me Non so Io non ho trovato nulla In nessun baule magico Gratis Però devo dire Che negli altri bauli Sia di Tommy Che di Giada Non ci possiamo assolutamente lamentare Detto questo Per me è tutto E noi ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Vi ricordo la live Vi ricordo la live Di domani mattina Con il Gran Cavaliere Quindi con la challenge E tutto quanto E niente Ci troviamo appunto Domani con la live Ciao raga Ciao